Non è giusto che chi non si piega al racket non possa lavorare. Per questo motivo riapriremo il ristorante di Vieste distrutto sabato notte entro il prossimo giugno. Lo ha detto il presidente della federazione delle associazioni anti-racket Tano Grasso che questa mattina è stato affoggia all'indomani dell'attentato incendiario che ha completamente distrutto il ristorante Chalì che si trova sul lungomare di Vieste. Nel corso dell'incontro Grasso ha sottolineato che la situazione del Gargano è stata sottovalutata dall'opinione pubblica nazionale ma anche dal punto di vista delle concrete azioni repressive. È un impegno che tutti dobbiamo sentirci di assumere perché nella misura in cui quel ristorante riapre noi annulliamo il valore intimidatorio dell'attentato. Questo è il punto. Loro pensavano di mettere in ginocchio un'attività e noi lo facciamo più bello di prima. Facendolo più bello di prima il valore intimidatorio scompare e resta la nuova struttura. Situazione che come dicevo prima all'esterno di quel territorio non viene percepito con la gravità che meriterebbe di essere percepita.